Numeri positivi, certo, ma ci vuole ancora tempo perché in Italia si possa parlare di vera ripresa. Arriva a dirlo, è il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi a Siena per partecipare all'assise di Confindustria Toscana Sud dal titolo Dateci un Paese normale. Il balletto delle cifre è continuo giorno dopo giorno, però sicuramente penso che vedremo un dato positivo, certamente un dato molto diverso da quello degli anni scorsi. C'è un cambiamento di andamento, di tendenza, che però per agganciare una vera ripresa ci vuole ancora qualcosina. Una ripresa che potrebbe essere agevolata anche dalla legge di stabilità in cui Squinzi ha rilevato alcune gravi mancanze. Dal nostro punto di vista alcune cose sono molto buone. C'è, leggiamo purtroppo, una grossa mancanza per la ricerca e per il Sud. Il presidente di Confindustria ha avuto anche parole per l'attuale sistema di welfare che per continuare ad essere proficuo deve adattarsi al mondo che cambia. Noi riteniamo che bisogna puntare su un welfare non di tipo tradizionale come quello che abbiamo avuto fino ad oggi, che fra un po' non saremo comunque in grado di sostenere, ma di puntare soprattutto a un welfare più attento ai veri bisogni e un welfare di tipo integrativo, così che tutti possano, alla fine della loro carriera lavorativa, avere una serenità per il futuro. Una riflessione sulla situazione senese è arrivata dal presidente di Confindustria Toscana Sud, Paolo Campinoti. Qui la situazione è più grave che da altre parti perché manca, c'è proprio una lacuna di infrastrutture, sono ancora tuttora, tipo, sono distrutti i ponti sulla cassa, ancora più di un anno che non sono stati rifatti, quindi qui fare impresa è veramente difficile. Noi stiamo cercando attraverso, ripeto, di un impegno anche proprio dell'associazione, nel far ripartire anche l'investimento delle aziende e sinceramente ora qualche segnale positivo si inizia a rivedere onestamente.